Tutto pronto, una bella giornata per festeggiare appunto il lavoro con dei momenti di approfondimento con l'intervento internazionale di Martin Guevara, il fratello del CE, che presenterà il libro Mio Ermano e il CE e poi ci sarà questo grande concerto che partirà dalle 5 con una rassegna di band locali molto importanti di respiro nazionale e poi ci sarà il grande concerto gratuito degli After Hours in Piazza della Rinascita a partire dalle 20 e 30. Un grande appuntamento che lancia la stagione dei grandi eventi della città di Pescara che sarà davvero ricca, gli eventi che rigenerano la funzione attrattiva e turistica della città. Gruppi locali molto noti e poi il capitano del rock Manuel Agnelli che ha avuto una grande esperienza in ultimo a X Factor con questo grande gruppo, poi con gli After Hours che è un gruppo riconosciuto sicuramente a livello nazionale, ci auguriamo che tante persone possano scegliere nella nostra città per trascorrere questo ponte lungo del primo maggio in armonia, in serenità e anche in spensieratezza. Ma sicuramente sarà una stagione ricca di appuntamenti, il mese di maggio comincia appunto con degli eventi a Pescara Vecchia, il 28 poi ci saranno una serie di eventi nella galleria food del mercato di Piazza Muzzi che cominciano a fine d'aprile e dureranno per tutto il mese di maggio e poi a maggio ci sarà il concerto come dicevamo prima del primo maggio e il raduno nazionale dei bersaglieri dal 17 al 21 per proprio proseguire con l'Ironman un'altra manifestazione che porterà migliaia di arrivi e presenze nella città e arrivare fino alla notte bianca del 22 luglio, la notte bianca dell'Adriatico e poi tutta una serie di manifestazioni che puntano a rivitalizzare la funzione attrattiva e commerciale della città appunto in sinergia con i commercianti, le associazioni di categorie e gli operatori.